Confermato il sequestro dei beni ai vertici di Banca Etruria, la Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dall'ultimo presidente dell'Istituto di Credito Aretino, Lorenzo Rosi, e da altri sei big della banca contro i sequestri scattati su richiesta del commissario liquidatore Giuseppe Santoni, disposti a garanzia di un eventuale risarcimento danni in caso di condanne nel processo per bancarotta. Il valore complessivo della richiesta si aggira attorno a 12 milioni di euro, tra terreni, immobili, case al mare e in montagna. Dopo l'udienza del 10 dicembre scorso, adesso è arrivato il verdetto definitivo, che conferma dunque i sigilli, in realtà però solo sulla carta, visto che ogni provvedimento legato al sequestro potrà essere esecutivo solo in caso di sentenza passata in giudicato. Una vicenda che si intreccia con quella del processo per bancarotta, procedimento che sta andando avanti a gonfie vele, nella inusuale sede della Sala dei Grandi del Palazzo della provincia di Arezzo, vista l'indisponibilità dell'Aula Miraglia della Vera per l'impossibilità di osservare le norme anti-covid. Un processo, quello per la bancarotta, che si avvia verso le battute finali. Entro maggio, infatti, dovrebbe concludersi la fase dibattimentale, con le requisitorie dell'accusa, gli interventi delle parti civili e le arringhe dei difensori.